La realtà di Fico, Luna Farm, siamo qui in un momento in cui tutto adesso è fermo perché è chiuso ma vedrete anche delle immagini durante l'intervista, belle e suggestive invece di tutto questo in piena attività grazie intanto di averci ospitato, come nasce un po' l'idea di questa Luna Farm, questo grande parco, insomma divertimento? Allora intanto grazie a voi, allora Luna Farm nasce sostanzialmente dalla realtà di Fico Italy World che appunto è un parco a tema cibo e Luna Farm invece nasce come parco divertimenti per bambini è una realtà che ha come storytelling quello del tema della fattoria, abbiamo un fattore invisibile che si chiama Gianni e poi ci sono appunto i suoi amici, i suoi quattro amici che sono le nostre mascotte che animano sostanzialmente il parco il nostro toro che è un grande artista che si chiama Valentino, la nostra ape Martina che è tutta precisina poi abbiamo Penelope la maialina che ama lo sport e la musica e infine abbiamo Ricky il gallo che è la parte social del gruppo sostanzialmente questo parco tematico nasce proprio per i bambini sostanzialmente dai 3 ai 14 anni ci sono 14 attrazioni, ad esempio come potete vedere alle mie spalle abbiamo questa piccola montagna russa oppure c'è una torre, una ruota panoramica e altre varie attrazioni proprio nate per far divertire i bambini adatti quindi alla loro età ecco molti animali quindi riferimento è chiaro, si può fare anche un giro bellissimo su una sorta di trenino con le galline quindi diciamo il tema di Fico comunque questa realtà di fabbrica contadina resta esattamente tante le attrazioni, l'età era quella allora diciamo intanto adesso non togliamo nulla Fico quindi uno può entrare a Fico, può venire a Luna Farm oppure può anche diciamo entrare direttamente a Luna Farm sì assolutamente quindi può venire anche soltanto a Luna Farm per far divertire i bambini il biglietto d'ingresso costa 8 euro online e 10 in cassa quindi invitiamo tutti chiaramente ad approfittare di questa differenza e di acquistare biglietti online Luna Farm si paga solo se uno fa le attrazioni sì assolutamente i genitori, i nonni vengono accompagnati un nostro punto a favore è che appunto pagano soltanto le persone che vogliono salire sulle giostre quindi per gli altri non c'è alcun costo da pagare anche il parcheggio è gratuito ricordiamo anche questo che è una cosa importante 8 euro comprende appunto un bracciale e giri limitati 8 euro online e 10 in cassa appunto è un quindi uno viene qui col bracciale online meglio perché costa meno sì esatto può fare tutto quello che vuole per quante volte vuole ci sono anche dei coupon perché diciamo è una realtà una fan che si sta incontrando la città di Bologna sì esatto infatti invitiamo i nostri ascoltatori a recarsi in vari punti vendita come ad esempio la Copp oppure il negozio di giocattoli GD Giochi a Villanova dove potranno appunto reperire degli sconti presentando l'incassa appunto potranno godere di questi sconti ecco c'è un aspetto sociale che Luna Farm ha scelto di sostenere che è una realtà grande e importante che tante volte vi abbiamo raccontato che è l'ANT perché una parte quindi di quello che è l'incasso di Luna Farm voi lo devolvete a ANT è così? esattamente sì una percentuale del nostro ricavato stagionale verrà devoluto all'ANT l'Associazione Nazionale Tumori ed è una cosa a cui teniamo molto perché ci spendiamo ben volentieri per queste cause umane ecco allora c'è la possibilità lo diciamo di fare anche delle feste di compleanno degli eventi aziendali così diamo un po' il panorama assolutamente sì abbiamo questa possibilità chiaramente per i bambini è proprio un invito spassionato a venire qui a festeggiare il compleanno perché ci sono tantissime attrazioni, tanto divertimento ma siamo d'accordo anche sull'invitare le persone adulte perché ci si diverte comunque c'è un punto di ristoro lo diciamo per chi viene magari che accompagna solamente figli o nipoti c'è un punto di ristoro dove può stare? sì assolutamente come dicevamo prima il fatto di non pagare un biglietto d'ingresso fa sì che genitori, nonni, zii possano accompagnare i propri bambini al parco e magari non so mangiare un gelato, prendere un caffè in totale tranquillità allora diciamo che queste giostre tra l'altro appartengono a produttori importanti inoltre per chi organizzano una farm ecco ricordiamo anche questo aspetto sì il gruppo Zamperla che è noto appunto per le giostre e le attrazioni appunto che si trovano in grandi parchi come ad esempio anche Mirabilandia questo lo diciamo per un fatto anche di sicurezza perché quando si gira in queste cose sì assolutamente e in fatto di sicurezza ci tengo a ricordare che possono salire sulle attrazioni i bambini a partire dai 90 cm di altezza e fino ai 120 cm devono essere accompagnati almeno da un adulto, dai 120 in su invece possono andare tranquillamente da soli qui però qualche adulto può farci un giretto approfitta del figlio tra i 90 e i 120 cm assolutamente sì, siamo ben disposti ad accogliere anche i più grandi appunto sulle giostre il parco Luna Farm è un parco interamente al coperto, è aperto dal giovedì alla domenica vi invitiamo tutti quanti a venirci a trovare bene grazie a te, buon divertimento, buon lavoro grazie, grazie a voi